bene bene salve a tutti Vincent Warlike benvenuti nel mio canale continuiamo la campagna con i Dale dobbiamo passare il turno ok tanto colgo l'occasione per dire che la domenica scorsa parlavo di arrivare a 100 iscritti ci sono stato per qualche ora nella domenica poi ho visto che ho perso 33 iscritti e adesso siamo 97 iscritti pazienza ringrazio comunque a questi di essere stati un po di tempo con me probabilmente non piace quello che faccio o quello che perlomeno o come lo faccio con magari non piaccio va bene pazienza ce ne faremo una ragione comunque spero che agli altri di piacere fatemelo sapere ragazzi mettete sempre un mi piace così capisco se vi piace o non vi piace quello che faccio se siete solo iscritti così tanto per insomma e voglio sapere se mi seguite con piacere o no perché altrimenti non avrebbe senso quello che faccio anche se lo farei anche per solo cinque persone questo è indiscutibile la cosa quindi potrei avere anche solo cinque iscritti e cinque visualizzazioni e sarei già più che contento ma comunque va bene così dai andiamo avanti non facciamo della polemica non ho voglia di fan e qui abbiamo l'anello dove cavolo è e dove sarebbe qua a casa degli orchi delle misti mountain e vabbè chi è che se lo vuoi a pigliare la non ci voglio andare a pigliarmi l'anello non saprei neanche come fare stiamo avanti il nostro diplomatico il castello possiamo aumentare quale aspetta non ho visto miseria vabbè ok guardiamo un po questo no chi c'è qua diplomatico castello che possiamo mettere in upgrade è l'unico e questo qua non mi viene in mente allora guardiamo un po qui non possiamo reclutare nessuno facciamo subito al town watch ok qui andiamo a riparare questi intanto stiamo facendo le strade non mi piace questa armata neanche un po ok qui siamo già ancora non siamo sotto va bene portiamo avanti i nostri uomini ragazzi passiamo il turno veloci avevamo degli altri uomini che stanno arrivando bene chi è ma che vuole sto diplomatico qua dei run almeno parla allora metterle può di my lord bene dobbiamo marciare verso la vittoria ok qui ci chiede di affrettarci alla conquista ragazzi rispetti io in battle allora sarei indeciso quasi se andare a combattere in campo aperto queste unità prima che arrivino a conquisti addosso 3 6 9 10 11 12 unità noi siamo in non uguali siamo un po più danneggiati ma va bene possiamo aspettare via anche che ci vengono ad assaltare non è un problema al momento quindi via costruzioni 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 qui stiamo facendo qui non c'è niente da fare è un chicken farm ok facciamolo passiamo il turno guardiamo intanto che i run sicuramente ci verranno ad assediare ma cosa vuoi ah sono gli arad questi non è i run e allora chiedimi qualcosa dai niente niente sono solo lì a rompere le scatole qui isengard ok andiamo verso da queste parti deve essere i free people anche se magari sarebbe più veloce al momento my lord qui ci sono gli orchi e la ci devono essere gli elfi allora andiamo subito qua un attimo dagli elfi quelli quegli altri elfi ok ok chi è che ci attacca e questi da dove cavolo sono arrivati ragazzi e questi da dove sono arrivati da dove sono arrivati quelli lì che non li ho mai visti arrivare da nessuna parte allora fuori con l'esercito ragazzi subito fuori con l'esercito questi qua bisogna che li sistemiamo così non è che riesco a portarci un gran che però va bene allora questo e questo e questo vediamo subito andare a riprenderci la nostra città ragazzi dammi delle unità in veloce ok allora andiamo subito a scontrarci qua con i rune dobbiamo per forza eliminare queste unità ok andiamo in battaglia ragazzi immediatamente allora questo è il nostro schieramento e una volta tanto siamo in una posizione di vantaggio anzi direi di no guardiamo un po' perchè dove sono sono a casa di dio e dobbiamo attaccarli noi quindi che c'entra tutta questa cosa qua non lo so va bene allora via prendiamoli facciamo una formazione e andiamo avanti veloci e andiamo avanti veloci oh no piano e so che non scappate per tutta la mappa adesso vai attacchiamoli che non scappate per tutta la mappa la battaglia è molto in nostra favore la victoria sarà nostra avanti su ragazzi su ok ok vai addosso quel generale qua ragazzi su ok 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 avanti avanti così ragazzi su ottimo occhio qua ragazzi noi nostri atler ranger ci attaccano sti maledetti infami ok 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 una guerra concitata ah ok 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 e qua che mi stanno facendo un po' dannare, ragazzi. Avanti, su. No. The enemy general flees like the coward he is. Press onward, and break the spirit of his army. The battle is very much in our favor. Victory will be ours. avanti uomini su avanti ok vabbè cacciamo un po' di rune allora proviamo chiedere un riscatto accettano bene vai un po' di soldi victory ok adesso torniamo dentro le carci le ferite tanto mettiamo questi a riparare dobbiamo accelerare un po' i tempi qui ragazzi di costruzione oro del malo cavolo di torno da fuori per questo lavoro che il peggio l'opera lans cento settanta questi uomini quote ok via allora passiamo il turno oppure guardiamo se abbiamo qualcosa da costruire visto che abbiamo due soldini li abbiamo fatti facciamo la cavalleria qua così possiamo ripararla e reclutarla un altro spadaccino ottimo ok andiamo avanti passiamo il turno questo emissario degli arad che cosa vuole cosa possiamo fare noi che siamo messi male 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 direi ben poco quindi facciamo una risoluzione automatica clear defeat ok e si prendono il nostro insediamento appena conquistato ma non capisco da dove siano arrivati queste armate qua da qua dietro molto probabilmente da qua dietro adesso andiamo a riprenderci subito ragazzi prendiamo immediatamente delle altre unità mercenari non importa le utilizzeremo nella migliore dei modi allora intanto qua portiamo qui subito altre unità poi direi di iniziarci a muovere anche verso quell'altro insediamento oh anche no siamo veramente un po' alla stregua un po' alla stregua ragazzi eh qui c'è un botto di gente un bel botto di gente che sta arrivando da noi quindi un attimo che andiamo a muoverci subito velocemente qua ok abbiamo un botto di gente non possiamo lasciare libera alcune zone allora sono passati per di qua questi maledetti e non li ho visti arrivare male 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 allora guardiamo un po' qua ah sono caduti i nani ragazzi sono caduti i nani quindi questo sarà un altro insediamento che dobbiamo andare a conquistare immediatamente a maledizione mancano i soldi mancano i fondi va bene concludiamo qua questo episodio ci vediamo nel prossimo ciao a tutti ciao